Una giovane di 23 anni residente a Udine, ma originaria di Santo Domingo, è stata trovata morta nel cortile di un edificio situato in Corso Vittorio Emanuele a Pordenone. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e immediatamente richiamato sul posto le forze dell'ordine, il personale sanitario e il medico legale impegnati nei primi accertamenti. Dalle prime ricostruzioni sembra che la ragazza sia deceduta dopo una caduta dal terzo piano del palazzo. Al momento i carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e non escludono nessuna festa investigativa. L'intera area è stata messa sotto sequestro in attesa di nuovi sviluppi, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze precise che hanno portato al tragico evento. Grazie a tutti.